Ad è stato sgomento e incredulità in molti imperiesi è non solo la sentenza del Tribunale di Genova relativa alla battaglia sui marchi in atto da tempo fra la Latte Alberti, fondata a Imperia nel 1948 dal Cavaliere del Lavoro Giacomo Alberti, e la Cipressa Sapori di Remo Alberti, altra azienda imperiese attiva da 30 anni. I giudici genovesi hanno infatti decretato che il marchio Alberti spetti a Remo Alberti e non alla storica azienda lattiero casearia, oggi con sede a Ponte d'Assio e con un'altra unità produttiva per il Grana Padano a Genola. La sentenza non è definitiva e sarà anzi contestata in appello dalla Latte Alberti, ma nel frattempo in via precauzionale l'azienda di Ponte d'Assio ha disposto una temporanea variazione al marchio. Il latte e gli altri prodotti restano chiaramente sempre gli stessi, nessun cambio di qualità, nessun cambio di azienda, ma una modifica al marchio in attesa che la situazione possa essere meglio chiarita in seguito.